Allora, questa è in folle, giusto? Mettiamo in prima. Così? E la retro. La prima è solo così, girato? Girato e dietro. Girato? Quindi questa è la prima. Adesso togliere la mano? Sì, ok. Vediamo che non ci schiantiamo. Attento al camion. Trattore. Così è la retro? Sì, dai. Ok. Può guardare, vieni da un secondo. Vediamo che ci ne curiamo con le partenze. Ma si frena. Frena, sì. Sì, frena, frena. L'importante è che ci sia il freno, diciamo. No. Sì. 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 Sì, aiuto! Ma tu! Ma no, in mezzo al cazzo con l'edio! E' il pezzalone! Vai qui dietro, Dio! Scatea! E' così, mi rompo il coglione! Mi piace quando lo metto! Stavo per mettere una cintura, non c'è! Stop! Parte, parte, adesso parte! Aspetta, raga, raga! Vai, Elena! Non sembra mai fatta! Cosa succede? Spiega! La gente dice, ma stai qua, corrono come delle disgraziate! Oggi c'è il cuode, Elena, c'è il cuode! Raga, la soluzione è questa, comunque! Ma cazzo, ha due occhi il cuode, più mi guarda! La soluzione è la soluzione! Allora, volevo farvi notare una cosa! Aspetta, facciamo! Guardate davanti il protettino che si muove la scuola! Sì! Non sappiamo mai se... Guarda quello di ieri! Ciao! Non sappiamo mai se questa macchina si è! I carabinieri, Elena! Fai da seria! Sempre con noi! Sei in dolce attesa, Elena, vero? Benzina, vero? Mi so, però è il benzinaio! Non era il benzinaio! Ah, non era il benzinaio quello là! Ah! Quindi... Grazie a tutti.